Meryl Streep e il marito Don Gummer si sono lasciati dopo 45 anni di matrimonio e qua Meryl Streep e il marito Don Gummer si sono lasciati dopo 45 anni di matrimonio e qua Un fulmine a ciel sereno per i fan dell'attrice premio Oscar ma non tanto per la coppia stessa che ha dichiarato di vivere vite separate da almeno 6 Dopo quasi 50 anni insieme, Meryl e suo marito Don hanno annunciato la loro separazione promettendo, però, di continuare a prendersi cura l'uno dell'altra L'annuncio è arrivato con una dichiarazione congiunta che i due hanno rilasciato al New York Post per annunciare pubblicamente la fine del loro matrimonio Era il 1978 quando Meryl e Don avevano deciso di dirsi quel sì che sarebbe dovuto durare per sé I motivi della separazione non sono stati rivelati ma i due hanno specificato che tra loro le cose non funzionavano da diverso tempo parlando perfino di vite separate da almeno 6 L'ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato in occasione degli Oscar del 2018 quando l'attrice è stata accompagnata proprio dal marito e, sul palco, lo ha ringraziato Don Ringrazio Don come prima cosa, sappi che tutto ciò che amo di più nella nostra vita me lo hai dato tu Erano state le parole dolcissime di Meryl per l'uomo con cui ha avuto 4 figli e una vita E nonostante questo annuncio di divorzio che annullerà il loro matrimonio, Meryl e Don una promessa se la sono fatta ancora Quella di continuare a prendersi cura l'uno Meryl Streep e Don Gummer si sono conosciuti grazie al fratello di lei che li ha fatti incontrare I due si sono poi sposati nel 1978 e hanno avuto 4 Anche le figlie di Meryl e Don lavorano nel mondo dello spettacolo e sono tutte Anche le figlie di Meryl e Don Gummer